Giunta a Brasiello praticamente fatta a Isernia. Lo sblocco della situazione di incertezza è arrivato con la riunione del gruppo del Partito Democratico che ha sancito l'ingresso in giunta per i primi due eletti. Luciano Sposato, dirigente del Catasto, e Marco Amendola, docente all'ITIS. A seguire anche gli altri gruppi e liste hanno preso la stessa direzione. Per la lista di Brasiello entreranno in giunta Roberto Di Baggio, geometra, e Maria Teresa d'Achille, docente alle superiori. Per l'Udeur di Vincenzo Niro sarà nominato Assessore Cosmo Galasso, architetto ed editore dei fatti del Nuovo Molise. Per l'Udcini di Moizzi in giunta Domenico Di Baggio, maggiore medico dell'esercito specializzato nelle missioni di pace all'estero. Missioni a cui dovrà presumibilmente rinunciare, almeno fino a quanto farà l'Assessore, e vista la sua professionalità militare non è escluso che sarà lui il responsabile della Polizia Municipale. Per Sinistra e Libertà entrerà in giunta Bici Antonelli, avvocato vicinissimo all'ex sindaco Ugo De Vivo, mentre Franco Capone, della lista Uniti per Isernia, dovrebbe essere il nuovo presidente del Consiglio, facendo così sfumare l'ipotesi, cara Brasiello, di un possibile coinvolgimento delle minoranze con le elezioni di Giacomo D'Apollonio. Capone, dirigente scolastico, fu anche vice-sindaco e Assessore della giunta Caterina, l'ultima di centro-sinistra prima dell'era Melogli. Intanto anche a Venafro, mentre si è ancora in attesa del debutto ufficiale di venerdì prossimo in Consiglio, da registrare la presa di posizione di Mario Pietracupa, capo dell'opposizione, che chiede a Antonio Sorbo e dai suoi Assessori di rinunciare all'indemità nel segno della buona politica.